La depressione presente sul mare del nord fa fluire sulla nostra regione correnti sud-occidentali a tratti instabili. Domenica giungerà su Floressa Giulia un fronte freddo da nord. Per sabato prevediamo inizialmente cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio un po' di instabilità in montagna, dove sarà possibile qualche locale rovescio o temporale che, pur con probabilità più bassa, è comunque possibile anche qualche zona di pianura. Non è escluso che qualche temporale sia anche di forte intensità. Sulla costa rimarrà il cielo prevalentemente sereno con venti di brezza, temperature massime tra i 29 e i 32 gradi. Domenica inizialmente cielo prevalentemente nuvoloso, tratti anche coperto, con piogge in genere moderate, ma sarà possibile anche qualche isolato rovescio temporalesco con piogge più abbondanti, forse anche con piogge intense. Poi nel corso della giornata un po' di variabilità con schiarite più ampie verso sera. Sulla costa soffierà bora in genere moderata, più forte dalla serata. Temperature massime in netto calo con valori attorno ai 25 e 26 gradi. Da lunedì nuovamente tempo più stabile, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione e temperature in lenta ricrescita. Dall'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanotto. Grazie.